Si torna a parlare di Piazza Muzzi in questo caso dopo quelle che sono state un po' le polemiche per la Movida, ci sono gli esercenti, c'è la Municipale, c'è stato un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, ora cosa farà il Comune? Il Comune è sicuramente impegnato insieme agli operatori per la crescita sostenibile della zona, questo significa che le attività devono continuare a lavorare, bisogna sviluppare appunto questa ripresa economica che c'è nel centro cittadino riqualificato e per questo siamo attenti allo sviluppo di una Movida sana di qualità. Per quanto riguarda gli esercenti, quale sarà il loro impegno? Il loro primo impegno è quello di mettere in campo, quindi collaborare con degli operatori di sicurezza sussidiaria che saranno nei weekend a garantire e per la clientela, quindi per i fruitori, per il nostro servizio e per il buon vivere dei residenti a aiutare quello che è l'operato delle forze dell'ordine per quanto più possibile garantire quella che è una copertura di sicurezza. La percezione è che una realtà così intensa come può essere quella di una partita di calcio allo stadio deve essere trasposta parimeritamente a quella che è la realtà del weekend in quest'area centrale, quindi è importante gestirla con efficacia e con competenza. Noi da parte nostra cerchiamo di offrire tutto quello che è il nostro bagaglio di esperienza lavorativa all'amministrazione per mettere in mano il prima possibile alla realtà del dopocena.